Nel video di oggi voglio mostrarti due soluzioni molto particolari per sfruttare l'angolo in cucina. Vieni a scoprirle con me. La prima delle due soluzioni è l'angolo con il cestello girevole. È una delle soluzioni più tradizionali e più utilizzate all'interno delle cucine, che consente di sfruttare parte dello spazio che rimane nascosto all'interno del mobile. La seconda soluzione invece è rappresentata da questo tipo di cestelli che si chiama cestelli a estrazione totale Le Mans. Il cestello si estrae completamente grazie a un sofisticato meccanismo e consente di avere libero accesso su tutto il ripiano. Altra chicca è la chiusura ammortizzata. Adesso invece voglio farti vedere la differenza tra i due cestelli. Da una parte apriamo il cestello Le Mans e dall'altra parte invece il cestello estraibile tradizionale. Come puoi vedere la differenza è sostanziale. Se nel cestello Le Mans abbiamo tutta la superficie del cestone completamente a vista, nel cestello tradizionale solo metà del il cestello si trova a vista. L'altra metà invece è nascosta in una zona d'ombra all'interno del mobile. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Ci vediamo alla prossima.